ragazzi buongiorno da corridore nato buona giornata a tutti buon venerdì siamo quasi vicini alla fine della settimana dai raga tenete duro ed ora vi faccio vedere le skin di oggi venerdì ragazzi suonatina guardate che sghitarata fa minacce ed ecco quale skin dello spazio guardate il band di rifley e lo seno morfo pacchetto completo a 2200 wbox eccole qua nel dettaglio lo seno morfo il suo dorso decorativo la coda guardate che coda e guardate rifley nella sua variante di stile il suo dorso decorativo e le morte lo seno morfo che potenza che paura fa 2200 wbox per averlo raga e questi sono gli attrezzi spaziali sorpresa toracica wow che paura il suo strumento di raccolta il suo braccio caricatore che potenza raga il deltaplano uno spettacolo vi vedranno dall'alto palanare che potenza guardate questo trio ha tutto assieme viene 1500 wbox e queste sono le morte invece acquistabili singolarmente vedete il prezzo ovviamente varia leggermente in su molto belle le skin nello spazio ve le consiglio queste sono le skin dei soldatini guardate nel dettaglio milite giocattolo pattugliatore di plastica rapace velocità la relativa copertura del soldatino il deltaplano il bombardiere d'assalto ed ecco la testa di pomodoro guardate che è molto simpatica col suo dorso decorativo e gli incarichi della testa di pomodoro per ottenere degli stili aggiuntivi per la testa di pomodoro lo strumento di raccolta che fa parte appunto della scuola soccosa 1500 wbox molto carino guardate lo strumento di raccolta del set pozza della pizza 800 wbox questo è quello notturno e il deltaplano carino gusto formaggio e pizza ecco le altre skin specialista luccicante complex uno strumento di raccolta molto carino e le moto il ballo elettrico qua muoviamole anche molto simpatico e complicato e i loro prezzi relativi ecco il pacchetto dell'ombra spettacolare anche questo 2800 wbox e si compone della squadra mecia delle ombre l'artigliere notturno l'archetipo ondra e i due strumenti di raccolta gli strutticini delle ombre combinate e calibro ombra che vengono appunto si possono acquistare anche se normalmente dei prezzi di wbox leggermente superiori mentre tutto insieme guardate con i suoi dorsi decorativi viene venduto a 2800 wbox molto bello anche questo e infine rimane ancora nello show di fortnite il completo flash con il suo dorso decorativo con le moto con i suoi laceratori lo strumento di raccolta relativo tutto venduto a 2200 wbox le skin di street fighter street fighter o Ryuken cioè grande Ryuken e Chun-Li il deltaplano cartello di guerra molto carino il flagello a 7 punte tutto completo viene 2200 wbox guardate vi faccio ancora una carrellata ragazzi guardate bene queste sono tutte le skin e le moto e gli strumenti di raccolta presenti nello show for night di oggi spettacolari sono quelle nello spazio anche il pacchetto ombre molto carino simpatici sono anche i soldatini voi ragazzi cosa ne pensate raga? ora ora vi saluto vi auguro ancora buon venerdì mi raccomando seguite le mie live corridore nato e se volete seguire il mio canale Mickey Crow raga buona giornata a tutti ciao raga ciao 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 Grazie.